Ciao ragazzi, io sono Falconer, oggi sono qua con un nuovo episodio della rubrica Scopriamo per scoprire un altro horror visto che l'ultimo episodio su All is Dust vi è piaciuto tanto perché io mi sono spaventato a morte e voi vi siete divertiti parecchio, ho deciso di appunto orientarmi su un altro horror e vedere un po' cosa succede questo si chiama Dispair, è un gioco horror creato con Unity io non ho idea di che cosa si tratta perché come sempre lo sto scoprendo con voi a scatola completamente chiusa per cui ci troviamo in metro qui mi dice di premere qualsiasi pulsante e io lo premo bene, vabbè, la qualità è alta, bene, possiamo direi cominciare lingua, c'è l'italiano, no, c'è l'inglese e il polacco, bene allora, cominciamo con Dispair io ho seriamente paura perché ho visto le recensioni del gioco su Steam e non promettevano niente di buono proprio niente di buono però non si sa mai che magari a noi piaccia, no? io ci credo poco, sinceramente, ma vediamo un po' per ora non... ma che cazzo allora... ah bene, allora, stavamo in metro, siamo svenuti a quanto pare la metro ha fatto il botto e noi siamo... all'interno... senza sapere bene perché o per come perché il bello di questi giochi è che non spiegano mai una mazza nel senso tu ti trovi di fronte a questi muri pieni di ottime texture senza sapere perché e... vabbè a me questo silenzio spettrale mette un'angoscia ma un'angoscia poi non si vede... questa prerogativa degli horror in cui non si vede mai un cazzo come se il buio fosse l'elemento cardine per spaventare la gente puoi anche spaventare qualcuno senza il buio ma non sembra capirlo nessuno si può correre? sì ottimo, c'ha anche il pulsante di corsa la prima cosa che colpisce di questo gioco devo dire che è il comparto tecnico perché tutto è stato realizzato con delle texture di altissima qualità guardate qua che... che chiodi mamma mia ma perché fanno... vabbè le luci anche bellissime il muro che è fatto... sembra una carta da parati fatta male è tutta a cubettoni poi perché l'acqua c'è ma non si vede si sente solo oddio io non mi girerò mai non mi girerò mai camminerò dritto fino alla morte perché se vi aspettate che io mi giri per farmi spaventare non mi girerò e c'è anche qualcuno che ci sta respirando dietro oddio io sto continuando a camminare ma oh per Diana non si può andare avanti vabbè tocca girarsi e non c'è niente manco qua ma che cosa sta succedendo dove sono niente ci siamo ribloccati un'altra volta io io sto correndo non so dove adesso sono riapparse le luci vabbè eeeh è una porta si porcaccio giuda che ansia se magari mi dite come la allora non provare a scappare non c'è via d'uscita ottimo allora esc no non funziona con esc con e eeeh non bisogna non c'è nessuno da incolpare se non te per ciò che è successo vabbè eeeh io non so come si usa la torcia con f flashlight giustamente ok eeeh una bellissima grata devo dire qui c'è mamma mia che effetti terribili qui c'è un tappino vabbè ma in questa stanza che cosa ho preso ho preso la gioca niente ma io boh ma il punto del gioco qual è ricominciamo a camminare nel buio cosmico di questo tunnel senza fine scusate mi bevo qualcosa perché fa un caldo che voi umani non potete neanche immaginare sì però che palle stiamo camminando da dieci minuti senza motivo niente qua si ferma ma perché ma perché dovrei fermarmi cosa c'è che mi blocca c'è la metro merda eeeh sono morto prima che arrivi la metro vabbè ma quindi siamo morti eeeh wow eeeh quindi si è buggato io non posso fare il 3 su 3 sui bug sui giochi che provo perché veramente vuol dire che so io ah rieccoci aaaaaa io sento dei battiti del cuore che però non hanno molto senso in questo contesto perché io vedo solamente un fottutissimo pallino la luce non si accende muovere non mi muovo sto schiacciando tutti i bottoni come bimbi minchia ma non sta succedendo assolutamente niente niente senti eeeh posso giocare non posso giocare eeeh signori io ah ecco doveva svegliarsi mamma mia ci ha messo un quarto d'ora a svegliarsi bene siamo tornati in metropolitana eeeh ci siamo risvegliati un'altra volta eeeh che dire di questo gioco è un gioco che onestamente è una cosa che sto ripetendo devo dire fin troppo spesso ormai che non avrei voluto assolutamente scoprire ma lo stiamo scoprendo eeeh adesso riusciamo ma io io poi per carità eeeh capisco tutto quello che uno sviluppatore può voler fare o può voler non fare però cazzarola è un horror o quantomeno così c'è scritto nella descrizione e eeeh non c'è niente che mi faccia paura e se non fa paura a me non fa paura a nessuno perché io ho un livello di sopportazione del terrore che è veramente bassissimo mi spavento per qualsiasi cosa per cui eeeh se non spaventa me hanno veramente oddio saluto ecco queste sono le cose che mi mettono ansia questo si lo ammetto paura no ma ma che cazzo è ma cos'era vabbè allora riprendiamo la cosa accendiamo la cosa il foglio di carta è tutta colpa tua si me l'hai già detto non c'è via d'uscita dio santo la stanza con questo fregno che che è un un tampax ma che cazzo vabbè abbiamo preso pure il tampax eeeh io boh qua la cosa più entusiasmante è il termosifone eeeh vabbè io se muoio un'altra volta per la metro che mi investe ragazzi direi che saluto qua perché gli abbiamo dedicato pure troppo a sto gioco se continua a essere così niente muri invisibili di nuovo eeeh io non so come c'è un inventario no non sapremo mai che cos'è quel tampax vabbè eeeh il gioco dei corridoi non ha il minimo senso tutto ciò che sto vedendo o facendo non ha il minimo senso la minima ragione di esistere sto gioco che poi per carità magari sono deficiente io non lo escludo sebbene abbia giocato parecchi giochi e di conseguenza non è che sono proprio l'ultimo arrivato però onestamente non sto capendo che cosa devo fare non sto capendo dove devo andare posso saltare posso accendere la luce anche se non ha grande utilità se non quella di illuminare sto fottuto corridoio che è sempre madonna ma perché vabbè il gioco del corridoio non c'è nessuno c'è solo sta fottuta metro che continua a mettermi sotto niente senza neanche mettermi sotto poi che è quella la cosa più terribile che neanche l'effetto del ce la faccio più ragazzi io sto provando una sensazione di sana vergogna non tanto per aver fatto questo video perché alla fine spero che rappresenti un monito per tutti coloro che proveranno a giocarci e magari grazie al mio video non lo faranno ma un po' di sana vergogna per per chi l'ha fatto perché per carità io sono uno che cerca sempre di difendere gli sviluppatori indipendenti dicendo che hanno grande creatività ottime idee e tanta passione ma qui santa madonna sei indifendibile non so chi tu sia ma sei veramente veramente profondamente indifendibile per cui ragazzi direi a questo punto che lo scopriamo dedicato a disper si può concludere qua ma il nome fu più azzeccato perché disperazione l'ha suscitata in me perché non so che cazzo fare onestamente più che averci provato due volte di fila aver fatto la stessa fine non posso fare a questo punto lancio la palla a voi se ci avete giocato e siete riusciti a superare questa parte fatemi sapere come avete fatto perché anche solo per gusto personale ci proverò detto questo vi ringrazio come sempre di avermi seguito spero che il video quantomeno vi abbia strappato un sorriso perché più di quello credo che non possa fare e vi do appuntamento al prossimo scopriamo che vi anticipo che sarà su un un enesimo horror che però ne ho sentito parlare benissimo per cui mi auguro vivamente che vada meglio di come è andata oggi detto questo ragazzi alla prossima ciao